La Chiesa è madre, è madre così, la Chiesa è donna, è donna così. Per questo non possiamo trovare il posto della donna nella Chiesa senza rispecchiarla in questo cuore di donna-madre. Questo è il posto della donna nella Chiesa, il gran posto, di quale derivano altri, più concreti, più secondari. Ma la Chiesa è madre, la Chiesa è donna. E mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne. Basta. Ferire una donna è oltraggiare Dio che da una donna ha presso l'umanità. No da un angelo, no direttamente, da una donna. Come da una donna la Chiesa donna prende l'umanità dei figli.